il primo a fare adesso seriamente nell'insedimento a Vendrame qualche metodo per andare a chiudere questo molto bravo, sfortunato, anche quest'anno l'avevo convocato per la settimana a copia Bartoli ma nel corso della privacidità per colpa di usato di catena non riusci più a riprendere Chavez che vince a San Martino di Castrozza eh sì, più secondo proprio alle spalle di Sbarciato rientrare prima sul terzetto e poi avendo l'ampia e si arriverà qui a Bagno di Romagna su un rettilineo lunghissimo che tende leggermente è il primo che si riporta su Andrea Vendrame ed anche il secondo gradone di questa salita nella Cattano è andato si forma quindi una coppia al comando ma ormai a tre chilometri dalla Gran Premio del gruppo ed è anche velocino questa è la fase decisiva a mio avviso per Andrea Vendrame altro uomo molto soprattutto importante per noi e non ci sei andato lontano con il tuo rilevamento oculare per essere viva la segnalazione di radioinformazione 38 secondi in ritardo e trovando i disconti a 1.05 4 secondi 5 secondi 5 secondi 5 secondi 5 secondi